Buon inizio di settimana, apriamo il nostro blocco informativo con la notizia del giorno che ci porta a ieri pomeriggio quando Trapani si è stretta attorno alla comunità ucraina. Un proseguo del sitino organizzato sabato dai sindacati e dalle associazioni del terzo settore. Ieri pomeriggio in piazza anche il gonfalone del capoluogo e i sindaci della provincia con fascia tricolore. Vediamo il servizio. L'inno ucraino ha aperto la manifestazione per la pace che si è tenuta ieri pomeriggio a piazza Vittorio Veneto, davanti la questura e la prefettura e all'ombra del monumento ai caduti di tutte le guerre. Un luogo che risponde alle esigenze dello spazio ma che è profondamente simbolico. Dopo l'inno ucraino, l'inno di Mameli, quasi a suggellare la vicinanza del nostro popolo a quello ucraino in queste ore dolorose e difficili da comprendere se non con la logica del secolo buio, quel novecento che sembrava ci fossimo gettati alle spalle con tutto il suo armamentario ideologico, la guerra fredda, la deterrenza nucleare. Oggi tutto questo è ritornato di prepotente attualità e lo si avvertiva ieri pomeriggio in piazza. E' piccola la comunità ucraina trapanese, una sessantina di persone, in prevalenza donne. Ieri sono state abbracciate virtualmente dai sindaci della provincia o loro delegati e dall'intera città di Trapani, presente con proprio confalone. C'era anche Don Luigi Ciotti in città per un'altra iniziativa, che però non ha voluto far mancare la sua presenza e le sue parole, il richiamo del Papa all'appello per la pace. Trapani ha risposto, sia pur non con i numeri delle grandi metropoli e delle capitali, ma la gente avverte la drammaticità del momento e ha trasferito i suoi sentimenti di solidarietà all'Ucraina. Vogliamo chiudere questo servizio con lo spirito di fratellanza verso un altro popolo, quello russo. Ieri in piazza c'era anche lei, da sola, con un cartello che dice più di ogni proclama da che parte stanno i russi. Da sola a caricarsi sulle spalle le colpe che non sono del popolo russo. I russi non sono Putin e i suoi oligarchi. Putin non li rappresenta. Putin non è la storia della Russia, ma un incidente della storia. Ci piace ricordare le parole di una splendida canzone di Sting. Spero che anche i russi amino i loro figli. Condividiamo la stessa biologia indipendentemente dall'ideologia. Ciò che potrebbe salvare me e te, e se anche i russi amano i loro figli. Questa era la nostra notizia del giorno, il bellissimo servizio del collega Fabio Pace. Tutte le altre notizie nel primo blocco informativo. Erice, che confusione! Il forfè di Simonte riapre i giochi per le candidature ad Erice. Spina, nel frattempo, invita al dialogo. Come sempre facciamo il punto sulla pandemia. In provincia di Trabani sono 7.262 casi accertati, 281 i nuovi positivi. In attesa della via, la valutazione di incidenza ambientale. Si resta quindi in attesa del rilascio delle autorizzazioni per passare alla fase operativa. Parliamo dei lavori per la realizzazione del porto di Bonagia. 100 milioni di euro per l'occupazione. Questo l'importo a disposizione della regione per l'avvio del programma di garanzia occupabilità dei lavoratori nell'isola. Per lo sport, dignità e cuore. Impresa della balla Canestro Trabani, che in trasferta e con assenze importanti, batte Casale-Monferrato 75-71. Parleremo ovviamente anche del calcio e non solo. E infine l'approfondimento, lo dedichiamo al progetto Coopera, questa iniziativa in materia di accoglienza di migranti che vede coinvolti anche il Comune e l'azienda sanitaria provinciale di Trabani. Ma intanto apriamo con la politica e con le questioni che riguardano la campagna elettorale ad Erice. La situazione pre-elettorale appare da sabato mattina un po' più confusa. La decisione di Giarosario Simonte di tirarsi indietro ha rimesso in discussione quasi tutto. Spina, intanto, Piero Spina, insiste nuovamente sulla necessità di un dialogo con il Partito Socialista, con i fratelli d'Italia e con Amo Erice. Vediamo. Giarosario Simonte non se l'è sentita di proseguire nel percorso elettorale che aveva sposato qualche settimana fa. Nella sua lettera di spiegazioni adduce motivi prettamente politici riconducibili alle incertezze nel comporre la lista da parte di Fratelli d'Italia. Non si è sentito gradito, in pratica, da una parte degli esponenti della destra locale. E, in un certo senso, la questione è pure comprensibile, considerato che Simonte è stato, fino a poco tempo fa, il segretario ericino del Partito Democratico. Giarosario Simonte, quindi, nel volgere di una nottata, e a quanto pare senza comunicarlo preventivamente a quelli che erano diventati i suoi compagni di viaggio, si è fatto da parte ricevendo le critiche e le contestazioni, soprattutto dal coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, l'avvocato Maurizio Miceri, il quale assicura, da suo canto, che la lista, a differenza di quanto sostenuto da Simonte, sarebbe stata, certamente, portata a compimento. Ma tant'è, ormai la frittata è fatta e la triade politica, composta da Amoerice, Partito Socialista e Fratelli d'Italia, deve correre ai ripari, individuando una nuova figura da proporre ai cittadini ricini, quale aspirante sindaco. Appare difficile, diciamoci la verità, la possibilità che i tre convergano sulla candidatura di Piero Spina, proposto, come noto, dalle forze autonomiste che fanno riferimento al Movimento Via del Senatore Papania e ai comitati civici Cives, Cittadini per Erice e Generazione Futura MNA. Spina, proprio ieri sera, ha diramato una nota stampa con la quale invita al dialogo Peppe Guaiana, Nino Ode e Maurizio Miceri. La coalizione che mi sostiene per le prossime amministrative di Erice, dice Spina, conferma la sua aggregazione politica in grado di raccoltare a suo interno persone, capacità, idee e visione politica. Una sintesi forte e compatta che oggi, alla luce delle ultime vicende politiche, si dichiara aperta e pronta a dialogare con tutte le forze politiche disposte ad un confronto leale e costruttivo. Serve, dice Spina, un progetto civico capace di ottenere la fiducia dei cittadini ricini. Per questo, dice agli altri, incontriamoci. Giunti al giro di Boa, conferma, insieme alla coalizione, il suo impegno a favore della cittadierice, con l'intento di costruire una nuova coesione sociale, con la possibilità di rappresentare tutte le sensibilità, le competenze e le prospettive. Difficile, ma non impossibile. Il fiammifero adesso è nelle mani di Guaiana, Ode e Miceri, ma la fiamma brucia velocemente e tempo a disposizione, ce n'è davvero poco. Dalla politica alla cronaca, Marsala, i controlli del sabato sera in un centro storico, i carabinieri hanno denunciato 5 persone e sequestrato anche un modernissimo sistema di irrigazione a distanza per una serra di cannabis. Nel corso del fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno condotto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nella movida del centro storico. L'attività si è conclusa con il deferimento di 5 persone detenute presunte responsabili a vario titolo dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e in ottemperanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In particolare, le molteplici perquisizioni condotte nei confronti di persone già note come assuntori o con precedenti specifici hanno permesso di denunciare 4 persone del posto tra i 20 e i 62 anni. Nel corso dell'attività sono stati complessivamente sequestrati 33 grammi di hashish, 130 grammi di marijuana e un appartamento del centro storico, una piccola serra composta da 10 piante dal tipo cannabis, nonché materiale per la coltivazione, tra cui lampade alogene e un modernissimo sistema di regazione attivabile a distanza tramite smartphone. Nello stesso contesto operativo, due persone sono state segnalate alla prefettura di Trapani quali assuntori non terapeutici, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish. Nel proseguo del servizio, un 36enne è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in orario non consentito dalla prescrizione imposta dalla misura della sorveglianza speciale cui è sottoposto. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Covid-19, facciamo il punto sulla pandemia, i dati sono aggiornati ieri pomeriggio alle 17. Abbiamo 7.262 casi accertati, 281 nuovi positivi e purtroppo ancora un decesso. La curva epidemica in Sicilia è in discesa come nel resto del paese, ma la circolazione del virus SARS-CoV-2 è ancora molto diffusa. Possiamo parlare di un arretramento, ma non certo della scomparsa del virus. In provincia dei Trapani sono 7.262 le persone attualmente positive, la stragrande maggioranza delle quali ben 6.877 asintomatiche. In isolamento domiciliare con sintomi vi sono 385 persone. I nuovi positivi all'esito dei tamponi molecolari e per la ricerca dell'antigene sono 281. E' proprio dall'andamento dei nuovi positivi che si trae il dato sull'andamento della curva epidemica. Un decesso porta 567 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, con un indice di letalità rispetto al numero dei contagiati dello 0,94%. L'indice di prevalenza dell'infezione è al 13,84% della popolazione. Dall'inizio della pandemia 60.226 persone sono state infettate dal virus. Le persone in isolamento domiciliare sono aumentate di 89 unità a Marsala e di 27 a Trapani. Entrambe le città ancora sopra i mille positivi. Andamento in lievissima risalita in quasi tutti i comuni, ma questo dato è normale nell'andamento dell'epidemia. Più rilevante, ribadiamo, il dato dei nuovi positivi 281 ieri contro i 431 di sabato. Questa è la situazione dei ricoveri. Nessun paziente in terapia intensiva, 14 in terapia semi-intensiva e 59 in degenza ordinaria. Altre 18 pazienti sono in attesa di negativizzazione in residenza sanitaria assistita e Covid Hotel. Tutte le altre notizie nella prossima sezione di Tg. Adesso parliamo del porto di Bonagia. Si attende solo la valutazione di incidenza ambientale, poi spazio ai 100 milioni di euro per l'occupazione con il programma di garanzia e occupabilità dei lavoratori nell'isola e infine spazio allo sport. In mezzo avremo anche altre notizie. Ma intanto andiamo a Valderice, dove il sindaco Francesco Stabile nei giorni scorsi ha incontrato, non a Valderice ma a Castellammare del Golfo durante la visita al cantiere del porto, il presidente della regione, l'onorevole Nello Musumece. Ma c'erano anche gli assessori Turano e Falcone. Vediamo le novità. La presenza dei rappresentanti del governo a Castellammare del Golfo è stata l'occasione buona per ribadire da parte del sindaco Francesco Stabile l'impegno dell'amministrazione comunale valdericina per la realizzazione del porto di Bonagia. Lo stesso primo cittadino ha tenuto a far sapere come siano continuate le interlocuzioni con il governo regionale sul Liter per il rilancio delle autorizzazioni necessarie che servono per passare alla fase operativa per la messa in sicurezza dell'approdo del Borgo Marinaro dove manca una liga foranea a protezione delle mareggiate provenienti dai quadranti settentrionari. A riguardo, il progetto del porto di Bonagia è all'esame degli uffici regionali competenti e si è in attesa della valutazione di incidenza ambientale per poi proseguire nel percorso che l'amministrazione comunale valdericina ha definito con gli uffici ministeriali. La visione strategica di sviluppo e di crescita di un territorio ha sottolineato il sitaco stabile non può che passare dalla realizzazione di questa importante infrastruttura e si è detto certo che si riuscirà ad arrivare a suo compimento con il costante e continuo impegno del suo esecutivo e con il supporto del governo regionale auspicando di raggiungere presto il risultato che la comunità valdericina attende da troppi anni. Ammontano a 100 milioni di euro le risorse a disposizione della regione siciliana per l'avvio del programma di garanzia occupabilità lavoratori nell'isola. Anche lì abbiamo un servizio. La curva epidemica in Sicilia è in discesa come nel resto del paese ma la circolazione del virus SARS-CoV-2 è ancora molto diffusa. No, in realtà non era questo il servizio, questo era quello sul Covid adesso la regia manda in onda il servizio appunto sull'occupazione. Si tratta di quasi l'11% dell'anticipo da 880 milioni su scala nazionale dei complessivi 4,6 miliardi stanziati dal PNRR per un intero quinquennio. Il piano attuativo regionale di Gol predisposto dall'assessorato al lavoro guidato da Antonio Scavone ha ricevuto il via libera dall'Aggiunta regionale e sarà adesso inviato ad Ampal per la definitiva approvazione. Grazie alla trattativa condotta con l'esecutivo nazionale, ha spiegato l'assessore Scavone, il governo musumeci è riuscito a fare tenere in considerazione la diversa condizione di industrializzazione dei singoli territori regionali e ottenere un finanziamento più consistente in cui includere anche le risorse per misure quali il reddito di cittadinanza e gli indici di disoccupazione. Il governo regionale, come rimarcato da Scavone, crede molto in questa misura del piano nazionale di ripresa e resilienza, tanto da avere predisposto il piano attuativo in anticipo rispetto alla scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 27 dicembre 2021. Il programma Gol in Sicilia è finalizzato innanzitutto al reinserimento occupazionale, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori. Nel 2022 coinvolgerà 64.680 soggetti, tra questi 17.248 sono destinati di percorsi di formazione. Per 6.468 in particolare è previsto un rafforzamento delle competenze digitali. Nell'ambito delle politiche del lavoro, l'assessorato regionale ha già adottato un piano per le nuove competenze, il rafforzamento del sistema duale e il potenziamento dei centri per l'impiego. Questi ultimi rappresentano un punto di snodo del programma Gol. Domani a Palermo, nella sala conferenza della Presidenza della Regione Siciliana, sarà presentato il progetto Frozen, finanziato dal FEAMP Sicilia 2014-2020, la misura 5.68, ed è realizzato dall'organizzazione di produttori denominata Il Gambero e la Triglia del Canale. Vediamo di che cosa stiamo parlando con questo servizio. Il progetto che nasce dal protocollo di intesa sottoscritto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia lo scorso dicembre è finalizzato allo svolgimento di percorsi formativi destinati agli istituti professionali del settore enogastronomia e ospitalità alberghiera. Interverranno all'incontro Tony Scilla, Assessore Regionale della Pesca Mediterranea, Natale Amoroso, Coordinatore Progetto Frozen, Luciano Giacalone, Presidente del Gambero e la Triglia del Canale, Stefano Suraniti, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, e Alberto Pulizzi, Dirigente Generale Dipartimento della Pesca Marittima. Il progetto Frozen, realizzato dall'organizzazione Produttori che associa 86 imprenditori del settore ittico, mira a sensibilizzare sul tema valorizzazione del prodotto ittico congelato a bordo, attraverso incontri, workshop e show cooking che si svolgeranno presso 12 istituti scolastici alberghieri della Sicilia. Tutte le notizie, queste già date, ma tutte le altre della giornata le potrete leggere sul nostro sito www.telesud.web.it Scusatemi, gli appuntamenti di questa sera vedono un doppio momento televisivo, in diretta alle 21 la trasmissione Sport Sud del lunedì con Stefania Renda, e poi alle 22.30 invece la manderemo in onda all'incontro di calcio fra Santa Maria Cilento e Trapani Calcio, disposato ieri pomeriggio. Adesso un'ampia pagina sportiva. Apriamo lo sport con il pareggio esterno per il Trapani Calcio che porta a casa un solo punto dalla sfida contro la polisportiva Santa Maria. Finisce 2-2, i Granata in vantaggio di due reti, si sono poi fatti rimontare. Vediamo. Il Trapani non va oltre il pareggio nella sfida contro la polisportiva Santa Maria, una gara che sembrava dovesse finire diversamente grazie al doppio vantaggio acquisito da Granata nella prima frazione di gioco, ma purtroppo non è andata così. I ragazzi di Morgia si sono infatti fatti rimontare dai padroni di casa, veri protagonisti del secondo tempo. I Granata hanno tenuto il controllo per tutta la prima frazione di gioco. Già al terzo minuto il tiro di Russo viene bloccato da Greco. Al 22esimo il tocco di mano in area di Coulibaly gli costa un'ammunizione e rigore per il Trapani. Dal dischetto si presenta De Felice che segna il gol del vantaggio Granata. I padroni di casa provano a reagire, ma il Trapani si chiude bene. Al 33esimo arriva il raddoppio dei Granata con Santa Arpia che sugli sviluppi di un corner di testa anticipa tutti e va a segno. Cinque minuti dopo Antezza ci prova, ma il suo tiro finisce oltre la linea di fondo. Sullo scadere dei 45 minuti il Santa Maria Cilento ci prova con il colpo di testa di Maggio, ma nulla da fare. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-0 per il Trapani. A rientro in campo sono i padroni di casa a gestire la gara. Dopo un gol annullato a Vitale per fuorigioco al cinquantesimo, due minuti dopo ci pensa Maggio ad accorciare le distanze e segnare l'1-2. Un minuto dopo la reazione del Trapani. De Felice va a segno, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 74esimo e porta la firma di Tannara. Nel finale due grandi occasioni per il Trapani, prima con Pipitone e poi al 92esimo con Lupo, che sottoporta non riesce a metterla in rete. I Granata portano a casa un solo punto e tanto rammarico per aver pareggiato una partita che sapeva di vittoria. E a fine gara a commentare la prestazione dei Granata è stato il vice allenatore esposito. Ascoltiamolo. Un'ottima gara. Penso che siamo ritornati sui livelli che ci hanno contraddistinto fino al mese scorso, prima della ripresa post-Covid. Abbiamo nominato, penso, nel primo tempo, per larghi tratti, dicevamo 2-0. A questo momento siamo entrati in campo, allora hanno trovato un primo gol con Maggio, che ha fatto un gran gol, e sono riusciti ad aprire la partita. Di buono c'è, perché comunque, dopo il 2-2 ci siamo rinversati in avanti cercando ulteriormente la vittoria. Abbiamo avuto più di qualche occasione per poter fare il 3-2, cosa non è riuscita, però di buono ci prendiamo la prestazione, che è stata, secondo me, di ottimo livello. ma consideriamo anche gli errori fatti che fanno parte delle analisi che si fanno post-Covid. Siamo mancati, forse, sotto il profilo nervoso al vinto del secondo tempo, però a volte capita, ci sono a volte delle condizioni per cui, visto che avevamo dominato per lunghi tratti il primo tempo, vinciamo 2-0, un calo di tensione inconscio ci può anche essere. Poi loro sono i bravi comunque a trovare quel goal e a cercare di pareggiare la partita a tutti i costi. Ci sono riusciti, però noi comunque abbiamo risposto e abbiamo creato più di qualche occasione anche abbastanza libita per tornare in vantaggio. Il percorso nostro che si è reinterrutto con la ripresa con il Città 9 in casa, piano piano l'abbiamo, tra virgolette, metabolizzata, e abbiamo ripreso un'altra volta quello che eravamo bravi a fare. Io penso che Corrende, dove abbiamo iniziato a dare un segnale deciso su quello che sono gli intenti di gioco che vogliamo portare sul rettangolo del gioco, con oggi abbiamo avuto un'amplificazione. Dispiace del risultato, perché penso che una prima prestazione così poteva comunque premiarci in maniera più evidente. Mercoledì si rigioco un'altra volta e cercheremo di fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Impresa della Pallacanestro Trapani, invece, che è in trasferta e con assenza importante, ha battuto Casale Monferrato per 75 a 71. Che aggettivo possiamo dare a questa squadra? La gamma è vasta, ma noi oggi scegliamo di usare un sostantivo, di usare la parola dignità. Il vocabolario dice rispetto che l'uomo, conscio del proprio valore sul piano morale, deve sentire nei confronti di se stesso e tradurre in un comportamento e in un contegno adeguati. Praticamente, quello che è successo ieri sera a Casale Monferrato, dove i ragazzi di Coach Parente, Orfani di Childs, Taflai e del lungodegente Palermo, hanno conquistato due punti d'oro in chiave salvezza, ma molti di più dal punto di vista emotivo. Sacrificio, aveva chiesto Coach Parente prima della gara, e i suoi ragazzi sono rimasti incollati alla squadra di casa sempre in vantaggio per sferrare il colpo fatale sul finale. Quattro giocatori in doppia cifra, Mollura, Wiggs, Romeo e Massone, sono la semplificazione numerica di tutto questo. Questo il commento dell'allenatore Granata nel post-gara. I primi due quarti credo che con un po' più di attenzione potevamo finire sopra noi, perché gli ultimi cinque punti di Casale non eravamo in bonus, abbiamo lasciato due punti facili a Martinoni senza spendere fallo, e una tripla ai Valentini, difficile, ma dovevamo fare fallo sul palleggio perché non eravamo in bonus. Credo che inizio terzo quarto siamo partiti soft, soprattutto in difesa, con tre bombe loro, meno male che l'attacco ha reagito e abbiamo ottenuto il terzo quarto, poi il quarto quarto è una partita siamo stati brevi a rimanere concentrati nonostante le difficoltà soprattutto di taglia fisica perché dobbiamo giocare molti minuti come si vuol dire small ball e dobbiamo migliorare ma avevo chiesto del sacrificio di non lasciare nulla di intentato e i ragazzi hanno risposto sono stati bravi inutile negare che questi sono due punti d'oro per la nostra situazione anche se la campionata è ancora molto molto lungo e quindi non bisogna rilassarci. Già al completo è impensabile di vincere una partita di 20 punti tutto dovrebbero fare in queste condizioni senza il premagritolare da tanto tempo il lungo titolare e toughly dobbiamo cercare di rimanere aggrappati alla partita e sfruttare ogni minima occasione siamo rimasti aggrappati abbiamo fatto i nostri errori non l'ho messo in conto ne dobbiamo fare meno perché alcuni errori sono gratuiti e poi ripeto siamo stati bravi a freddi nei tiri liberi finali a portare a casa la vittoria come hai detto tu giustamente in questi casi si cerca di rimanere aggrappati se c'è una possibilità la devi cogliere noi siamo stati bravi ieri pomeriggio è stato un momento di festa per la comunità di Buseto Parizzolo e non solo perché si è tenuto presso il nuovo bocciodromo comunale inaugurato poco più di un mese fa il primo trofeo Trinacrea la gara regionale di Bocce che ha visto disputare le fasi eliminatorie in diversi comuni in diversi bocciodromi del comitato di Trapani e le fasi finali proprio nella struttura la nuovissima struttura del comune Busetano vediamo che cosa è successo alla manifestazione hanno partecipato diverse società con ben 117 giocatori della categoria A, B e C nel corso della manifestazione è stato consegnato il premio Maglio Graziano da parte del Lussi Unione Stampa Sportiva Italiana al presidente del comitato regionale FIB Nicolò Pecorella dirigente che si è particolarmente distinto a consegnare il premio il giornalista sportivo Francesco Gammarasana con questa motivazione in qualità di presidente della Federbocce Sicilia nell'ultimo quadriennio ha dato notevole impulso all'intero movimento boccistico isolano e per aver organizzato per la prima volta in Sicilia un evento di notevole rilievo come le finali nazionali della Coppa Italia femminile intervenuto anche il sindaco Roberto Maiorana che oltre a complimentarsi con gli organizzatori e con i giocatori ha voluto sottolineare la capabilità del presidente regionale Pecorella che ha fortemente voluto che la scelta dell'impianto per le finali fosse proprio la nuova struttura busetana infine doverosamente è stato ricordato che il momento attuale è particolarmente doloroso e preoccupante e il sindaco ha auspicato che i soli scontri a cui vorremmo assistere in un futuro dovranno svolgersi sui campi di gioco e non su quelli di battaglia le gare che si sono svolte a squadre con modalità a Terna hanno infine decretato la seguente classifica prima classificata Rizzo Ferdinando Amaro Maurizio D'Antoni Vito società Edera Bambina seconda classificata Ansaldo Tommaso Rugirello Antonino Tumbarello Girolamo società Bufalata terza classificata Mannone Gianfranco Armato Michele D'Antoni Mario società Bufalata quarta classificata Monteleone Giuseppe di Trapani Salvatore Chiara Leonardo società Splendor Napola quinta classificata Vultaggio Luciano Fontana Alberto Allastra Marco società Splendor sesta classificata Amaro Salvatore Amaro Giuseppe Perlone Vito società Edera Bambina L'approfondimento di oggi lo dedichiamo a questo progetto che è operativo a Trapani presso la cittadella della salute si tratta di un ambulatorio di equip multidisciplinare minori previsto nell'ambito appunto di questa progettualità denominata Coopera Mario Torrenta Il progetto Coopera acronimo di Comuni Migliorano per arginare la vulnerabilità è finanziato nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione del Ministero dell'Interno con l'obiettivo di potenziare l'offerta dei servizi delle amministrazioni pubbliche aumentando la loro capacità di gestione realizzando centri e iniziative di accoglienza rivolte ai cittadini di paesi terzi Tra i partner del progetto c'è il Comune e l'Asp di Trapani l'azienda sanitaria ha anche attivato degli ambulatori multidisciplinari per sostegno psicologico ai migranti a Mazzara del Vallo per gli adulti ed a Trapani per minori Il progetto Coopera è un progetto che ci investe come partner del Comune di Palermo assieme ad altri partner noi partecipiamo con l'istituzione di tre equip una per la neuropsychiatria infantile una per la psichiatria adulti e un'altra equip per l'unità mobile itinerante Precisamente oggi ci troviamo qui all'interno dell'ambulatorio di etnopsichiatria infantile proprio perché è l'aspetto che più ci interessa e soprattutto a cui teniamo molto di più in questo progetto perché ha a che fare direttamente con il disagio che i ragazzi i minori portano dietro di sé attraverso questo fatidico viaggio della migrazione che a volte dura anche anni per poi passare quasi alla fine ai lager libici portatori di grandissime sofferenze che abilmente poi vengono trattate all'interno di questo ambulatorio una volta sbarcati a Trapani Io faccio parte dell'equip sono pedagogista insieme ad altri colleghi da diversi anni abbiamo come dire sperimentato una prassi che ci permette di prendere in carico i minori migranti condividendo un linguaggio comune perché abbiamo condiviso anche percorsi di formazione insieme ai colleghi i ragazzi in genere vengono qui accompagnati dai responsabili delle strutture sempre in presenza del mediatore culturale è chiaro che sono ragazzi che hanno vissuto momenti abbastanza complessi alla loro vita determinati proprio dal loro percorso migratorio per cui noi andiamo a intercettare quelle che sono le loro fragilità provando appunto a mettere in campo tutte le risorse possibili per implementare il loro percorso di crescita il loro percorso di crescita psicologico e il loro benessere siamo ripeto un gruppo di operatori che collaborano insieme già da diversi anni e questa è la nostra struttura la sede dove noi accogliamo i migranti Nell'ambito del progetto Coopera sono previsti dei tavoli tecnici per affrontare le diverse problematiche legate all'accoglienza con l'obiettivo di creare una rete tra tutti i partner e attivare così meccanismi di collaborazione e scambio tra i comuni e gli altri soggetti coinvolti nell'iniziativa i tavoli tecnici sono coordinati dall'Anci Sicilia che è l'associazione nazionale dei comuni siciliani e di fatto vengono il coordinamento dei comuni esamino le varie problematiche che ci sono all'interno di tutti i centri di accoglienza e integrazione che sono in Sicilia circa 100 vengono coinvolti circa 90 comuni quindi questi sono dei contenitori importanti dove vengono dibattute le criticità che ci sono all'interno del sistema di accoglienza e integrazione e un modo anche per far veicolare fra le varie esperienze quelle che sono positive che hanno delle buone prassi e in alcuni casi vengono anche coinvolte delle realtà che sono fuori dal contesto siciliano il progetto è questo proprio è l'acronimo di i comuni migliorano per ragionare la vulnerabilità quindi si vuole rafforzare quella che è la rete delle pubbliche amministrazioni e chiaramente i comuni sono l'avamposto per quanto riguarda l'accoglienza e il sistema dell'integrazione anche perché sono quegli enti che interloquiscono con il territorio perché c'è una problematica anche legata alla gestione non solo nei centri di assistenza ma anche e soprattutto per quello che poi il dopo dell'accoglienza che significa anche lavoro che significa integrazione che significa anche possibilità per cittadini e terzo modo di integrarsi nel nostro territorio In questa nuova edizione vi riporto subito una comunicazione una dichiarazione arrivata poco fa dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci parliamo della crisi e dei venti di guerra che ci sono appunto per ora dice Musumeci la Sicilia culla di accoglienza e di integrazione con la generosità di sempre è pronta a ospitare i profughi ucraini costretti a lasciare ogni cosa per fuggire dal conflitto in corso ai confini dell'Europa dice ancora Musumeci coopereremo con le nuove prefetture dell'isola per fornire collaborazione e coordinare gli aspetti logistici assieme alla protezione civile regionale per la distribuzione di farmaci e di ogni genere di prima necessità e perché i profughi possano avere tutta l'assistenza di cui necessitano con l'auspicio che al più presto quanto sta accadendo abbia soluzione positiva e pacifica queste sono le dichiarazioni del presidente della regione siciliana Nello Musumeci arrivate poco fa e a proposito ci colleghiamo a queste dichiarazioni con il servizio sul setino di ieri subito dopo ci sarà poi per chi se lo fosse perso nella prima edizione il servizio è assunto sulle ultime novità della politica aderice L'inno ucraino ha aperto la manifestazione per la pace che si è tenuta ieri pomeriggio a piazza Vittorio Veneto davanti la questura e la prefettura e all'ombra del monumento ai caduti di tutte le guerre un luogo che risponde all'esigenza dello spazio ma che è profondamente simbolico dopo l'inno ucraino l'inno di Mameli quasi a suggellare la vicinanza del nostro popolo a quello ucraino in queste ore dolorose e difficili da comprendere se non con la logica del secolo buio quel novecento che sembrava ci fossimo gettati alle spalle con tutto il suo armamentario ideologico la guerra fredda la deterrenza nucleare oggi tutto questo è ritornato di prepotente attualità e lo si avvertiva ieri pomeriggio in piazza è piccola la comunità ucraina trapanese una sessantina di persone in prevalenza donne ieri sono state abbracciate virtualmente dai sindaci della provincia o loro delegati e dall'intera città di Trapani presente con proprio confalone c'era anche Don Luigi Ciotti in città per un'altra iniziativa che però non ha voluto far mancare la sua presenza e le sue parole il richiamo del Papa l'appello per la pace Trapani ha risposto sia pur non con i numeri delle grandi metropoli e delle capitali ma la gente avverte la drammaticità del momento e ha trasferito i suoi sentimenti di solidarietà all'Ucraina vogliamo chiudere questo servizio con lo spirito di fratellanza verso un altro popolo quello russo ieri in piazza c'era anche lei da sola con un cartello che dice più di ogni proclama da che parte stanno i russi da sola a caricarsi sulle spalle le colpe che non sono del popolo russo i russi non sono Putin e i suoi oligarchi Putin non li rappresenta Putin non è la storia della Russia ma un incidente della storia ci piace ricordare le parole di una splendida canzone di Sting spero che anche i russi amino i loro figli condividiamo la stessa biologia indipendentemente dall'ideologia ciò che potrebbe salvare me e te e se anche i russi amano i loro figli Già Rosario Simonte non se l'è sentita di proseguire nel percorso elettorale che aveva sposato qualche settimana fa nella sua lettera di spiegazioni adduce motivi prettamente politici riconducibili alle incertezze nel comporre la lista da parte di Fratelli d'Italia non si è sentito gradito in pratica da una parte degli esponenti della destra locale e in un certo senso la questione è pure comprensibile considerato che Simonte è stato fino a poco tempo fa il segretario ericino del Partito Democratico Già Rosario Simonte quindi nel volgere di una nottata e a quanto pare senza comunicarlo preventivamente a quelli che erano diventati i suoi compagni di viaggio si è fatto da parte ricevendo le critiche e le contestazioni soprattutto dal coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia l'avvocato Maurizio Miceri il quale assicura dal suo canto che la lista a differenza di quanto sostenuto da Simonte sarebbe stata certamente portata a compimento ma tant'è ormai la frittata è fatta e la triade politica composta da Amoerice Partito Socialista e Fratelli d'Italia deve correre ai ripari individuando una nuova figura da proporre ai cittadini ricini quale aspirante sindaco appare difficile diciamoci la verità la possibilità che i tre convergano sulla candidatura di Piero Spina proposto come noto dalle forze autonomiste che fanno riferimento al movimento via del senatore Papania e ai comitati civici Cives Cittadini per Erice e Generazione Futura MNA Spina proprio ieri sera ha diramato una nota stampa con la quale invita al dialogo Peppe Guaiana Nino Ode Maurizio Miceri la coalizione che mi sostiene per le prossime amministrative di Erice dice Spina conferma la sua aggregazione politica in grado di raccoltare a suo interno persone capacità idee e visione politica una sintesi forte e compatta che oggi alla luce delle ultime vicende politiche si dichiara aperta e pronta a dialogare con tutte le forze politiche disposte ad un confronto leale e costruttivo serve dice Spina un progetto civico capace di ottenere la fiducia dei cittadini ericini per questo dice agli altri incontriamoci giunti al giro di Boa conferma insieme alla coalizione il suo impegno a favore della cittadierice con l'intento di costruire una nuova coesione sociale con la possibilità di rappresentare tutte le sensibilità le competenze le prospettive difficile ma non impossibile il fiammifero adesso è nelle mani di Guaiana Oddo e Miceri ma la fiamma brucia velocemente e tempo a disposizione ce n'è davvero poco grazie a tutti